Daniele Paolo, 2 a 0 come nel 13 agosto a Rio, ma insomma era importante l'evento, questa sfida che continua, questo bel contesto per celebrare due coppie importanti del Beach Volley, non solo italiano ma anche mondiale. Sì, che dire, sono contentissimo perché c'era tanta gente, non me l'aspettavo e secondo me questo qua è il frutto di quello che abbiamo fatto noi insieme all'altra coppia ma anche a Marte e Vicky e Laura e niente, siamo contenti quindi non vediamo l'ora di riniziare da capo e ci vediamo il prossimo anno diciamo. Sono passati due mesi più o meno da quell'argento olimpico, è cambiato il sapore di quella medaglia a distanza di due mesi? No, no perché quella medaglia rappresenta tuttora un percorso, un percorso nostro, un percorso del Bicciolo italiano quindi ha un peso importante e quindi credo e spero che non cambierà mai. In vista dell'anno prossimo forse sarete un po' più temuti e quindi cambierà un pochino l'approccio delle altre coppie contro di voi, è vero che avete vinto due volte l'europeo però insomma una medaglia olimpica dà un certo spessore no? Ma non lo so perché comunque noi siamo sempre stati temuti, l'unica cosa che cambia secondo me è quello di quanto riguarda noi perché comunque abbiamo più esperienza, abbiamo una medaglia a una finale olimpica quindi cioè è veramente qualcosa di importante secondo me. L'ultima cosa, Ranghiere Carambola dice che non diventerete le loro bestie nere, è davvero così dopo questa doppia vittoria? Sì, anche perché diciamo che la vittoria di oggi lascia un po' il tempo che trova, loro sono una grande coppia, penso che il livello di tutto il World Tour non solo nostro e quello di Alex e Adrian sia molto equilibrato quindi ci saranno delle volte in cui vinceremo, delle volte in cui perderemo, lo sappiamo, dobbiamo cercare, noi proveremo a vincere sempre però non penso che diventeremo né la loro bestia nera né la bestia nera di chiunque altro. E allora in bocca al lupo per l'anno prossimo. Grazie. Grazie.